Ma che bello, che tanto attuaggio! Dove sei? Devo dire a tutti. Cominciano, dite. Vicino, proprio vicino. Allora, la Golden di Cervia. My Place di Cesenatico. La nuova Xtreme di Savignano sul Bicone che aprirà lunedì. E poi al gruppo Balla con noi di Sant'Angelo in Gattino. Un saluto alla Titti che non c'è, che fra poco, sapete. Ah, è vero. Ho i miei supporti. È la famosa Titti dello Steggio Paterale. No, no, è un'altra Titti. Lei è incinta, è molto incinta. Finalmente la Tiziana, dopo anni e anni di esperimenti, è di parte, le cambiate. Ha provato con il suo marito? No, ha provato con il suo marito e ce l'ha fatta. Infatti vostri ne parlate a casa. Noi siamo pronti per Gerilè Marcon De Colè. De Colè? De Colè? No, c'è scritto questo. Hai sbagliato? No, no. Hai sbagliato? Mi ha dato una chiametta lei. Ho sbagliato io forse? No, no, è dopo, è dopo, è dopo. No, no, no. Mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. E' partita! Parti! Naturalmente voglio ricordare che il remix l'ha fatto lei per il quanto di Joker. Questo mi ricordo molto il pezzo di qualche anno fa. Suomi Gar. Non, no, no. Oh! Un po' di più. 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 Ora, facciamoci i amici no 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti